Ciao a tutti ragazzi, dopo aver rifatto appena adesso la mega proposta dei muninelli di gamma 2018 taglia mille con bobina da 20 euro in omaggio, offerta che praticamente penso che per ora che ho fatto quest'altro video saranno già finiti ho un'altra offerta, questa volta si tratta del modello sostitutivo di questo, questo è il Sedona FE che è il modello 2018, cioè l'ultimo uscito ho un'offerta sul modello FE, in particolare abbiamo una buona quantità di FE 2000 che però è un 2000 non C, non compatto quindi è un 2000 che ha la stessa taglia del 2005 solo che con una bobina un po' meno capiente gran bel muninello, stava sulla stessa fascia di prezzo circa di quello attuale che è sui 55-60 euro ha un prezzo offerta molto interessante, non ce ne sono molti pezzi, soprattutto il 2000 secondo me è uno dei più belli perché ha la bobina un po' più bassa e ha il corpo di un 2005-3000 quindi è un muninello perfetto per fare la pesca al bus per fare la pesca, per tutte le pesche che si fanno con fili dello 0, 20, 22, 25 e con trecce da 10, 15 fino a 20 libre anche se 20 libre sono un po' tantone, ha il corpo comunque sottile, era quella serie di muninelli come potete vedere ha il corpo che è stato ridotto di misura ma la corona è molto grande, vedete addirittura sborda dal corpo ma soprattutto era una di quelle serie che aveva ancora l'antiritorno disinseribile del muninello cosa che hanno levato questo muninello che era come dicevo sull'ordine dei 55-60 euro è in offerta a seconda delle misure a 43-46 euro è da prendere al volo ma vi dico subito perché perché insieme a questo muninello riusciamo a darvi finché ce ne sono la bobina di ricambio taglia 2000 sia sulla misura 2000 sia sulla misura 2005 quindi avrete una doppia bobina, il muninello è uguale a 2000-2005, cambia pochissimo ha proprio le stesse dimensioni anche di bobina quindi avrete una doppia bobina, magari una da caricare con filo un po' più grosso e una un po' più sottile una con la treccia e una con il nylon potrete farne un duplice uso, cosa che sapete queste bobine costano, le trovate nel nostro store a 19,90 e insomma 19,90 regalati su un muninello da 43 euro è tanta roba sinceramente approfittatele, non ce ne sono moltissime anche qua penso che ce ne saranno una trentina circa, meno più quindi correte presto, prendetevi questo muninello semplicemente per il fatto che è un muninello di scorta di questa taglia viene buono per un milione di pesche diverse se siete dei pescatori qua prendete un prodotto Shimano a 43-46 euro vi ricordo sempre valida la promozione di 79 euro trasporto gratuito ci mettete sopra una cannina o se la cannina ce l'avete già mettete sopra qualche artificiale, qualche accessorio mettete su un paio di bobine di filo, raggiungete i 79 euro avete anche il trasporto gratuito e la vita vi sorride con queste offerte estive che capitano generalmente solo appunto nel mese di luglio, agosto ogni anno io cerco di impegnarvi a darvi sempre delle buone offerte che generalmente non si trovano durante tutto quanto il resto dell'anno statemi bene, ricordate di essere iscritti alla nostra newsletter alla nostra mail, al nostro negozio andate sulla nostra pagina www.boscolosport.com iscrivetevi alla newsletter seguiteci su Facebook, seguiteci su Telegram iscrivetevi al gruppo Telegram dove tutte queste offerte vengono proposte e seguitemi anche su Instagram se vi fa piacere vedere un po' di retroscena di tutte queste menatine di video che faccio ma che sono molto utili e mi permettono di rimanere in contatto con voi e di proporre a tutti quanti i clienti italiani le stesse cose che propongo anche normalmente nella mia attività e come potete vedere ci sono delle nuove veramente molto interessanti questa offerta in particolare è valida solo online quindi è dedicata a tutti voi che state guardando questo video sul vostro cellulare o sul vostro computer statemi bene, ciao a tutti quanti buona estate ciao a tutti 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 ciao a tutti